Sala Consilina, Salerno. Nella chiesa di Sant'Antonio a Sala Consilina, questa sera alle 19, si terrà un incontro pubblico per l'ambiente. Un evento che vede insieme l'associazione schierarsi, lega ambiente, il comitato Ruris, il comitato no all'elettrosmog. Temiamo scrivono dal comitato Ruris si stia verificando un vero e proprio delitto ambientale in località fonti a Sala Consilina. Tutti ormai sapete della puzza che incombe sui cittadini di fonti da quasi due anni, e che rende impossibile respirare o semplicemente godersi una serata estiva con le finestre aperte. È una bomba ecologica pronta ad esplodere. Non possiamo continuare a subire la puzza irrespirabile di fogne mescolata alla chimica per ridurne l'intensità. Il futuro è già compromesso sia da un punto di vista di svalutazione dei beni immobili di proprietà di cittadini che per lo stato psicofisico di alcuni residenti.